In realtà De Cecco è stato condannato cinque anni fa, questa è l'esecuzione di una sentenza che ci sono voluti cinque anni per vedere poi attuata, adesso c'è il cartello quindi probabilmente finalmente si abbatteranno gli abusi edilizi sulla spiaggia che è demanio marittimo e quindi proprietà collettiva di tutta la comunità e restituita la vista mare su piazzale Le Laudi che ricordo è uno slargo della pineta d'Annunziana che è sottoposto a vincolo del Ministero dei Beni Culturali nel 1965, purtroppo le autorità pubbliche a Pescara e non solo a Pescara si sono sempre dimenticati di far rispettare la bellezza dei nostri luoghi, questo riguarda tutto il demanio marittimo, la vicenda è molto triste perché questa ebbe grande risonanza perché De Cecco mi querelò, poi i tribunali, i giudici dettero ragione a me tant'è però che è stato condannato lui, ma Rifondazione insieme al Comitato Mare Libero ha dovuto condurre una battaglia di anni insieme a cittadini della zona come Mario Cipollone che oggi non c'è più contro questi abusi, ma le pubbliche autorità dovrebbero controllare gli abusi su tutto il litorale perché ripeto la spiaggia non è di tutti, non è di qualche operatore che ha avuto la concessione, il compito della politica non è coprire gli abusi o fare ingrandire gli stabilimenti ma garantire il mare pulito per i balneatori, per gli operatori e per i cittadini. Voglio ricordare che purtroppo appena entrato da Alfonso in Regione ha approvato un nuovo piano demaniale marittimo che consentirà di ingrandire ulteriormente gli stabilimenti e che noi speriamo venga abrogato al più presto perché è un attentato a quel poco di vista male che è rimasta.